Ciao, sono Alessia e voglio raccontarti del mio viaggio a New York, un'esperienza che ha richiesto una pianificazione meticolosa e che mi ha insegnato molto. Il viaggio iniziò molto prima di mettere piede sull'aereo. Il primo passo fu ottenere il passaporto. Dopo settimane di attesa e un paio di visite all'ufficio passaporti, finalmente l'ottenni. Poi giunse la fase della prenotazione del volo. Dopo giorni passati a confrontare prezzi e orari, trovai un volo di andata e ritorno con una compagnia aerea affidabile che non mi svenasse. Organizzare le ferie non fu semplice. Dovetti negoziare con il mio capo, spostare alcune scadenze e assicurarmi che i miei colleghi potessero coprire le mie assenze. Arrivata all'aeroporto, mi trovai di fronte alla realtà dei viaggi internazionali, lunghe code al check-in, controlli di sicurezza severi e l'inevitabile attesa in aeroporto. Il volo fu lungo e non particolarmente confortevole, ma l'eccitazione per il viaggio mi tenne su di morale. Una volta atterrata, la frenesia della città mi colpì immediatamente. Prendere un taxi dall'aeroporto alla città fu un'avventura a sé, con un traffico caotico e un autista che parlava a malapena inglese. Il viaggio mi costò più di quanto avessi previsto, ma ero troppo stanca per protestare. Il mio alloggio era un ostello nel cuore di Manhattan, scelto per risparmiare. La stanza era piccola e condivisa con altri viaggiatori. Non era il massimo del comfort, ma era pulita e sicura, e questo era ciò che contava. Nei giorni seguenti esplorai New York con un misto di stupore e frustrazione. Times Square era un tripudio di luci e suoni, ma anche di folle e venditori ambulanti insistenti. Il Central Park, con i suoi vasti spazi verdi, fu una piacevole fuga dal caos urbano. L'Empire State Building offrì una vista spettacolare, anche se l'attesa per l'ascensore fu estenuante. La visita alla Statua della Libertà fu un po' deludente. Le code erano lunghissime e la statua più piccola di quanto mi aspettassi. Tuttavia, il traghetto offrì una vista mozzafiato dello skyline di Manhattan. Uno dei momenti più memorabili fu la visita al Metropolitan Museum of Art. L'arte e la storia contenute in quel museo erano travolgenti. Passai un'intera giornata a vagare tra le sale, completamente assorta. Brooklyn fu un'altra scoperta. Il ponte di Brooklyn al tramonto offrì una delle viste più iconiche della città. Williamsburg, con i suoi caffè alla moda e i negozi vintage, era completamente diverso da Manhattan, un mondo a sé. Il viaggio non fu senza sfide. Dovevo stare attenta al budget, quindi spesso optavo per cibi economici come hot dog dai venditori ambulanti o pasti veloci in piccoli diner. La solitudine a volte mi pesava, soprattutto la sera, quando tornavo stanchissima in ostello e desideravo solo una conversazione familiare. Il mio inglese, pur essendo buono, a volte non era sufficiente per capire alcuni accenti o modi di dire locali, il che rendeva alcune interazioni imbarazzanti. E poi c'erano i lunghi tragitti in metropolitana, spesso affollata e confusa, dove mi sono persa un paio di volte. Nonostante queste difficoltà, ogni giorno a New York era un'avventura. Imparai ad apprezzare la diversità culturale della città, a trovare bellezza in un angolo di strada inaspettato, a godermi il caffè in un piccolo parco. Quando arrivò il momento di tornare, sentii un misto di sollievo e malinconia. New York mi aveva messo alla prova in modi che non avrei mai immaginato e ne ero uscita più forte e indipendente. Il volo di ritorno fu un momento di riflessione su tutte le esperienze vissute. Atterrando in Italia sentii un'ondata di familiare conforto. Il viaggio era stato incredibile, ma c'era qualcosa di irresistibilmente dolce nel tornare a casa. Grazie per la visualizzazione. Se non è un problema, supportaci iscrivendoti e attivando la campanellina. Sarà di supporto per aiutarci ad aumentare la qualità del canale.